Ora devo tornare a salvamento e salvare i miei amici. Perché sono impingentata qui? Basta di uscire! Si trattano così le signorine! Stanno tutti bene gli altri, non so che prima o poi te lo andiamo a prendermi. Signori, come mi sembrano le suite che vi ho preparato? Stupendo, no? Jada per salvarvi la pelle è andato a farmi una commissione, ma a me non piace mantenere le promesse. Invece mi piace vedere Jada soffrire lentamente. Per voi ho preparato un bel regalino per un viaggio di sola andata all'inferno. Nel mio bel palazzo c'è una clessidra. Grazie ad un indignoso meccanismo, man mano che la sabbia della clessidra scende, il suono della cella si apre. Che ve ne pare? Non è sensazionale? L'unica via di scampo sarebbe capovolgere la clessidra, è vero. Potrebbe farlo Jada. Se fai tempo a tornare, vi rimangono dieci minuti di vita. Pregate affinché arrivi il vostro redentore. Addio branca di idea di meccanismo, bello. Ahahahaha Che buongiorgi aiuti! Addio branca di idea di meccanismo, bello. Ahahahah Che mince un pastardo! Devo fare qualcosa, sono l'unico che voglio aiutarli. Senti Mi hai ordinato di girare le crisi E di chiudere la chiave E io ho fatto così Avrò fatto male Io credo che no Così che non senti niente Col fatto che un giorno ci fermeremo Comunque allora meglio andare Uffa Ancora con questo casino Con le luci Proprio non capisco come funzionano È più facile di ciò che pensi Le devi solo accendere tutte Ora andiamo Ma quella è la chiave Di cui parlavo nei miei video Ma ieri Ora mi devi vedere Cazzo di fronte Vuole avanzare pian piano E a volte cerchio quando non mi sta guardando Quando mi guardo invece Dovete smettere A volte lui c'era congelato in me Con il mosto del cazzo No cazzo Fermo immobile Fermo 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 Non ti muovere Gitte Devo stare fermo Devo stare fermo Devo stare fermo Oh Oh Non ti muoverebbe quando un mosto mi guarda ma il zucchero riprovo Oh no, non mi devi vedere, non fa stare fanno No Sono quasi Ce l'ho fatta Dannazione Ovviamente devo mettere questi E poi con gli stimmaggia Ora dovrebbe andare, proviamo a salire Funzionato Ora devo solo girare la crescita Non c'è Iiii Ah, che ro Così sono tutti i cherosani Che paura Siamo per morire Tutti bene? Tutti bene che no? E' stato una faticaccia Ma è andata chiaro bene Presto ora non c'è tempo da perdere Ho sentito dire ad un mambo nero di là che ci dovrà avere dei cromecanismi Ha detto basta accenderle tutte Andiamo, non possiamo sempre contare su Gitan Dobbiamo fuggire prima che arrivano tutti gli altri Che la faremo, vedrete? Andiamo Andiamo